La separazione di Francesco Totti e Ilari Blasi ha letteralmente lasciato tutti di sasso. Nonostante la crisi tra i due fosse già nell'aria, la conduttrice aveva smentito le precedenti indiscrezioni rilasciando una intervista all'amica Silvia Toffanin, accusando la stampa. Sulla questione è intervenuta pure Simona Ventura, dopo il precedente messaggio che aveva scritto sui social, per il quale anche Ilari la aveva condannata. Raggiunta da il messaggero, Super Simo ha commentato Francesco è stato molto carino con me dopo quel post. Ilari non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lo debole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all'istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità. Cosa ne pensate delle parole di Simona Ventura?